Aggiornamento meteo per sabato 19 agosto 2023. Innanzitutto, vorrei invitarti ad iscriverti e da lasciare un mi piace, grazie. Evoluzione sul comparto euro-mediterraneo per sabato 19 agosto. Permane ad ovest del Regno Unito una vasta depressione oceanica che estende la sua influenza verso sud appena ad ovest del continente europeo. Tale depressione porterà maltempo su tutta l'area centro-settentrionale europea e sarà responsabile della recrudescenza subtropicale in azione sull'Europa meridionale e mediterranea ed inserita in un vasto promontorio anticiclonico stazionario. Su queste ultime zone le temperature si manterranno di molto al di sopra della media. Previsioni meteo in area italiana per sabato 19 agosto. Nord. Bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel corso del pomeriggio formazione di qualche addensamento sul comparto alpino, dove non si escludono sporadici piovaschi. Caldo in incremento nelle pianure con sensazione di afa. Centro. Stabile e soleggiato con al più dei modesti addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi, più compatti sull'appennino centrale. Caldo nelle zone pianeggianti del centro-nord. Sud e isole. Condizioni di bel tempo con cieli poco nuvolosi. Tuttavia, nel corso del pomeriggio, assisteremo alla formazione di cumulo nembi sulla dorsale appenninica, accompagnata da temporali. La fenomenologia potrebbe parzialmente sconfinare nell'entroterra basso-tirrenico. Clima caldo. Temperature massime in ulteriore aumento, soprattutto nelle vallate del nord e del centro-nord, dove il caldo e l'afa si faranno opprimenti e disagevoli. Minime nel complesso stazionarie. Valori ovunque superiori alle medie del periodo. Ventilazione debole a regime di brezza con rinforzi nel corso del pomeriggio, specie sul comparto adriatico ionico, dove i venti assumeranno dominante nord-occidentale. Mari da poco mossi al mattino a localmente mossi nelle ore centrali della giornata. Tendenza in area italiana per domenica 20 agosto e lunedì 21 agosto. Condizioni anticicloniche di stampo subtropicale in rinforzo, a garanzia di tempo stabile e soleggiato con temperature che tenderanno ad aumentare, assestandosi ovunque su valori superiori alle medie del periodo. Disagio per caldo e d'afa nelle zone pianeggianti del nord e del centro-nord. Soltanto all'estremo sud-tirrenico e sulla Sicilia vi sarà un po' di instabilità con piovaschi nelle zone interne, soprattutto nella giornata di domenica. Grazie a tutti della vostra attenzione, non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per ricevere le previsioni aggiornate.